Allora, grazie a tutti di essere qui, grazie ai miei amici e grazie, sono sicuro che Rosy è qui da queste parti, lei che non ha più bisogno del tempo e dello spazio, però qui è con noi e noi siamo qui per fare un po' di musica, per leggere i suoi testi, in questo giorno in cui lei è nata, lei è nata alle 5, quindi sono contenta che ci siano anche dei bambini, perché qui noi festeggiamo una nascita e quindi sogniamo. Allora, conquista, colonna, sonora e stupenda, dai, dai, dai. Allora, intanto diciamo, ci sta tutta una serie di stanno... Allora, intanto diciamo, ci sta tutta una serie di stanno, Allora, intanto diciamo, ci sta tutta una serie di stanno, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Non vedi nulla! Questo spazio, cos'è queste? Come una grande mia! Di due volumi Di cui c'è un passaggio Praticamente programato Da un vallo Nel muro E poi anziché le pareti essere tutte bianche Hanno questi disegni Che vanno dal rosso Con i colori primari Rosso, blu, nero, giallo E' bianca quella parete Che l'ho spiegato E' dal pavimento fino al soffitto E tutti i volumi che riprendono Mezzelune Gli spazi Colorandoli Trovando Ma questa è una pittura murale su tutto lo spazio Ribadendo fino al vetro Della porta d'ingresso E' dal pavimento 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 Bianca Rialto E' dal pavimento E' dal pavimento E' dal pavimento E' dal pavimento Dicono E' dal pavimento C'è un affetto Ci vorrei che andranno Adentare E' da Bene Chia Che Alla fine si stavano per pestare. 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 Alla fine si stavano per pestare.